Io vivo al centro di Roma e quando passeggio posso godere di qualcosa che ritengo particolarmente significativo. Si tratta delle immagini mariane che si trovano spesso agli angoli delle vie, quelle che chiamiamo comunemente le edicole mariane. Certo, tutto questo oggi sembra il retaggio di tempi andati, visto che oramai non molti passanti dedicano uno sguardo a queste madonne che in tempi andati e in alcuni casi avevano anche lacrimato, potendo così considerarsi come immagini miracolose. Io penso sia particolarmente significativo che queste immagini, alcune anche di un certo pregio artistico, altre meno, si trovano agli angoli delle vie, nel punto in cui una via incrocia un'altra, ricordando così che la Beata Vergine Maria è colei che fu ai piedi della croce e noi con lei. E poi c'è questa idea delle vie che si incontrano, così come noi che proveniamo da strade diverse, siamo invitati a formare un solo gregge nella Chiesa di Cristo, che è la Chiesa Cattolica. Maria veglia su questo ai piedi della croce e noi siamo con lei. Io penso sia bello dedicare uno sguardo a quelle immagini, qualche secondo del nostro tempo frettoloso, almeno per ricordarci che la nostra vita non è solo corsa e stress, ma che essa ha anche una necessaria dimensione spirituale. In fondo, anche negli abissi del nostro peccato, possiamo trovare posto per volgerci alla grazia. Lo diceva infatti Vittorio Messori nel suo libro «Ipotesi su Maria» citando Léon Bluat. I maggiori devoti di Maria sono o i grandi peccatori o gli innocenti, i semplici. Ecco, in qualunque categoria noi ci capita di trovarci, facciamo uso di questa pedagogia di spiritualità che ci offrono le edicole mariane, dove forse la madre piange non per i peccati dei rivoluzionari napoleonici ai nostri giorni, ma per essere stata abbandonata da quei figli che se ne vanno in giro sicuri di se stessi almeno in apparenza, ma pervasi nell'intimo da un'ansia profonda.